In una fase avanzata di malattia, il paziente va posto al centro. Non soffrire è un diritto di tutti, sempre. Questo è il messaggio e la visione del direttore generale dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, espressi in vista della ventitresima giornata del sollievo, che si celebra domenica 26 maggio. Le cure rivolte alle persone con malattia giunta alla fase terminale e le cosiddette cure palliative sono un segno di civiltà e di rispetto della dignità della persona. Il direttore ha snorciolato i numeri dell'ASL di Teramo. Quanto alle cure palliative, nel 2023 sono stati 448 i pazienti seguiti a domicilio nell'ambito territoriale della provincia di Teramo, per un totale di 14.715 accessi infermieristici, 1.551 accessi medici e 132 psicologici. 164 i pazienti ricoverati sempre nel corso del 2023 nell'ospice incontrada a Casalena, per un totale di 2.185 giornate di assistenza e 9 pazienti dimessi a domicilio. Gli ambulatori di terapia antalgica sono attivi all'ospedale di Teramo e a Sant'Omero. Al Mazzini c'è una US di terapia del dolore all'interno dell'anestesiera e animazione, che esegue diverse prestazioni. Agopuntura per anestesia, emogasanalisi, arteriosa sistemica, infiltrazione e iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nel legamento, terapia del dolore con Scrambler Therapy. Nel 2023 sono state eseguite 3.896 prestazioni. L'ospedale della Val Vibrata, sempre nel 2023, ha effettuato 982 prestazioni. Presenti anche ambulatori di terapia antalgica in due distretti sanitari. In quello di Teramo sono state eseguite 961 prestazioni sanitarie. L'ambulatorio attivo nel distretto di Montorio ne ha invece eseguite 1294. La cultura del sollievo della sofferenza fisica e morale, osserva Di Giosia, deve essere patrimonio di tutti e di un'azienda sanitaria che si prenda cura del paziente sia nel proprio domicilio sia nelle strutture.